Ciao bentornati e bentornate, oggi andiamo a fare un po' di chiarezza su quello che è successo a Thinglink. Sembra che sia diventato a pagamento, sembra che il prezzo sia incredibilmente alto, non sapete più cosa dovete fare per raggiungere i vostri studenti o per condividere con loro i vostri Thinglink e non sapete neanche se volete rimanere dentro questa app o se esistono anche delle altre possibilità, magari gratuiti o forse anche meno costose. Beh, lo sveleremo oggi insieme in questo video per poter continuare a produrre delle immagini interattive fantastiche all'interno della nostra didattica a scuola. Avrete senz'altro notato che entrando nella home page di Thinglink trovate in alto a destra o in basso a sinistra dei pulsanti che prima non c'erano con scritto try for free o start your free trial, quindi implicito in questi bottoni che è cambiato qualcosa e che probabilmente qualcosa è diventato a pagamento. Oppure avete bypassato l'home page di Thinglink, avete fatto il vostro accesso normale e vi siete trovati in difficoltà a condividere i vostri file, quindi avete trovato delle limitazioni come queste che vedete nascoste dai lucchetti oppure l'avviso che il privacy settings dei vostri contenuti ha delle limitazioni che durerà solo 30 giorni, sarà solo pubblica, non potrete fare una scelta di condivisione solo con le vostre organizzazioni, insomma un pochino di limitazioni all'interno di Thinglink. Ma sicuramente a qualcuno non sarà cambiato niente, la vostra home page sarà normale, riuscirete a condividere normalmente non avrete nessuno di questi problemi. Beh, in questo caso ci sono due possibili spiegazioni. La prima è che avete un account già preesistente, quindi diciamo vecchio tra virgolette, e che non è ancora stato aggiornato. Beh, questa è una grande fortuna, non durerà per sempre, ma probabilmente l'aggiornamento deve ancora arrivare al vostro profilo. Io stessa ho qualche vecchio profilo di spiegazione che usavo semplicemente per i video che ancora non ha limitazioni con la condivisione dei file, quindi continuo a lavorare normalmente. Oppure l'altra possibilità è che voi in verità vi siate dimenticati di avere un vecchio account premium. Quindi avete uno di quegli account teacher, quindi insegnanti, che però si chiamavano ancora account premium, comprensivi dei 60 posti per gli studenti, e questo lo vedete dalla vostra home page in basso a sinistra, vedete qui c'è scritto Your Seats, quindi io ho qui aperto un abbonamento a pagamento ancora attivo. Bene, in questo caso non c'è nessun cambiamento in più, devo dirvi la verità, c'è anche un fantastico vantaggio che è questo che sto per dirvi. Thinglink ha deciso che chi fino adesso ha pagato un abbonamento normale con i propri 60 studenti e vuole mantenerlo può ancora, almeno per un anno, poi non so cosa succederà, mantenere la possibilità di pagare l'account col vecchio prezzo, peraltro, e mantenere l'invito dei 60 studenti. Quindi in questo caso potete tirare un sospiro di sollievo anche voi, potete evitare di guardare il proseguimento di questo video finché il vostro account premium viene rinnovato e ha ancora questo aspetto con i seats, i posti per gli studenti in basso a sinistra della vostra home page, non avrete nessun tipo di problema di condivisione o di limitazioni. Andiamo a vedere che cosa succede invece con le persone che si sono da poco iscritte o che hanno già subito un cambio di profilo. Queste sono tutte le funzionalità che avete attive, quindi vedete che potrete condividere i vostri Thinglink, potrete inserirli all'interno di siti, potrete utilizzare le immagini a 360 gradi, potrete integrare con PowerPoint eccetera, ma solamente questo per il periodo di prova, quindi per 30 giorni, se vi siete appena iscritti, avrete la possibilità di provare Thinglink come se aveste pagato praticamente tutto, come se aveste un account super premium. L'unica differenza grossa da chi aveva il precedente account premium è che avrete solo il posto per voi e non potrete provare le funzionalità studenti, come vedete qui studenti non ha indicato nessun numero di fianco nella voce student seats e quindi gli studenti non possono seguirvi all'interno di Thinglink per creare a loro volta dei contenuti, possono continuare a iscriversi con i loro account come privati non come studenti e creare i loro Thinglink senza nessun problema. Avete la possibilità di contattare il supporto di Thinglink, sono molto veloci, molto disponibili, anche sui gruppi Facebook se taggate gli amministratori vi rispondono molto volentieri e avete sempre garantita la risposta in uno o due giorni dal lunedì al venerdì. Questo nei vostri 30 giorni di prova delle nuove funzionalità Thinglink ma anche se deciderete poi di acquistarlo. Ci sono poche funzioni che non avrete a disposizione su questa volo perché praticamente noi a scuola non la usiamo però diciamo che se aveste bisogno di creare proprio uno scenario con tanti tipi di interazione all'interno, quindi non solo il cambio di scena, non solo le domande ma anche queste funzionalità che vedete qui in questa schermata. Quindi se siete abituati a usare lo scenario sappiate che purtroppo questo diventerà assolutamente a pagamento, evidentemente è la più utilizzata ed è quella per cui la maggior parte delle persone fa Thinglink, mi sentirei di dire, visto che l'hanno messa ulteriormente a pagamento, ma diciamo che in contesto scolastico possiamo benissimo sorvolare a usare altre app, quindi non vi preoccupate. Andiamo a vedere quanto costa quest'anno Thinglink, quindi se siete appena arrivati in questo mondo o da poco e decidete di comprarlo, beh, vi costerà 60 dollari l'anno, quindi 58 euro contro i vecchi mi sembra 35-40, ecco. È un bello aumento di prezzo, devo dire la verità, avete tutte le funzionalità che vedete qui, potete condividere quante immagini volete, ne potete creare infinite, anche 360, anche video, potete fare il corso Thinglink che però è in inglese, potete avere le statistiche e se state guardando questo video prima del primo dicembre, che praticamente è impossibile, perché sono molto in ritardo con la sua pubblicazione, magari avete, se lo sapete già, avete già usufruito dello scontro del 25% e magari l'avete pagato 43 euro invece che 58, però per questo prezzo non potete aggiungere gli studenti. Gli studenti vi costano poi un prezzo aggiuntivo che gira sui 2 dollari per studente. Normalmente, se siete appena arrivati su Thinglink, vi siete appena iscritti, non avete trovato nessuna differenza, vi siete, avete fatto la vostra iscrizione, come vedete qui, passare nelle immagini, avete compilato un sacco di finestre che vi chiedono chi siete, cosa volete, un fiorino per andare avanti, avete messo il vostro nome, il vostro, il nome della vostra scuola e siete arrivati qui all'interno di Thinglink dove appunto trovate con il tasto blu ricordata l'opzione di upgrade, sapete che avete il conteggio dei giorni rimasti per la prova gratuita in alto, quindi quei 29 days left che sono lassù in alto sono il vostro countdown praticamente alla fine del periodo gratuito, dopodiché come vi dicevo dovrete fare l'upgrade per poter condividere i vostri file, quindi se alla fine di questi 30 giorni voi decidete di non pagare potrete anche continuare a usare Thinglink ma non potrete condividere niente, quindi per voi risulterà completamente inutile perché i vostri studenti non potranno vederlo e allo stesso modo se avrete magari dei contenuti già preparati e entrate all'interno dei vostri contenuti e cliccate sul tasto share vedrete tutte queste limitazioni che non vi permettono di fare cose extra di condivisione e che vi lasciano la condivisione pubblica solamente per 30 giorni, quindi continuerete a vedere questi avvisi che vi diranno sta per scadere, sta per scadere. Quindi detto tra noi amanti di Thinglink e il tutorial di Thinglink sono i più visti sul mio canale in assoluto, vi ho rotto la testa per mesi e mesi e mesi su quanto è bello questo Thinglink, cosa facciamo adesso che i prezzi sono così cambiati? Allora la prima opzione è acquistarlo e basta, vi piace Thinglink, siete innamorati di Thinglink e decidete di acquistarlo, magari fate un acquisto con carta docente, io nella data che vedete qui indicata il 23 novembre ho mandato una mail al referente italiano per Thinglink chiedendogli di mandarmi le indicazioni per l'acquisto con carta docente, se lo fate anche voi a questo indirizzo che è qui indicato riceverete la stessa risposta. Come notate qui i prezzi ancora di Thinglink sono quelli vecchi, io ho chiesto conferma e ad oggi, primo dicembre, il responsabile Alessio mi ha risposto che attualmente sono i prezzi che sono ancora applicati per chi compra Thinglink con carta docente, nonostante la licenza sia cambiata, quindi avete ancora la possibilità, non so per dirvi per quanto tempo, di comprare attraverso questa persona con la carta docente a un prezzo calmierato, il che è un'ottima soluzione. Sappiate che per quelli di voi che hanno invece l'account premium, che quindi vogliono rinnovare la licenza, vi conviene secondo me scrivere al supporto di Thinglink chiedendo l'UMI a riguardo, vi risponderanno a velocità luce perché abbiamo la risposta in uno o due giorni e vi diranno cosa fare per rinnovare di nuovo la licenza se l'avevate già attiva. Una possibilità ancora, se il prezzo vi sembra troppo alto, è l'acquisto in comune, quindi decidete semplicemente di dividervi una licenza tra diversi docenti, comprate una licenza un po' costosa, magari sono appunto quei 58 euro, e però poi condividete le credenziali e create dei Thinglink che sono poi facilmente condivisibili, dove non possono intervenire gli studenti per lavorarci perché se pagate solo la vostra licenza nuova non sono compresi gli studenti, ve lo ricordo, ma quantomeno potrete un po' abbassare i costi e continuare a creare immagini interattive e condividerle in modo che i vostri studenti le possano visualizzare. Se avete deciso le strade che vi ho detto fino a qui, vi conviene sempre cercare sul mio canale YouTube la playlist completa di Thinglink in modo da avere tutti i video con tutte le funzionalità e i poteri speciali di Thinglink in un unico posto. La cercate sul mio canale, la aggiungete alle vostre playlist e ogni tanto tornate lì a guardare se ho pubblicato nuovi video. Ma se invece proprio avete deciso che non volete pagare Thinglink per questo servizio, allora sappiate che si può sempre sostituire questa funzionalità di Thinglink con altre app più o meno simili. Ora vi lascio qualche soluzione. La prima è utilizzare Canva. Certo assolutamente non è la stessa cosa di Thinglink ma Canva ha aumentato i propri poteri di interazione. Quindi ci sono all'interno di questo di questa bellissima web app delle possibilità di integrazione di video, di link cliccabili oppure si possono creare anche solo delle parti delle immagini interattive. Le trovate tutte queste funzionalità descritte sul mio canale YouTube. Quindi al solito andate pure cercare i miei video di Canva all'interno del mio canale e troverete il modo di creare queste interazioni all'interno di una app che è pensata per produrre delle presentazioni che però vi ricordo se la presentazione è formata da una sola diapositiva beh allora avete creato in pratica una immagine interattiva. Quindi un po' assomiglia a Thinglink. Non è Thinglink. Il prodotto che più ci si avvicina è Genialy e qui ahimè non troverete nessunissimo video sul mio canale non perché non mi piaccia Genialy, non perché io non usi Genialy ma perché ci sono tantissimi bravissimi YouTubers che hanno già fatto questa cosa. Quindi in generale potete cercare su YouTube Tutorial Genialy e troverete tantissimi Google Educator e Google Trainer che vi racconteranno cos'è questa app e come la potete usare per creare delle immagini interattive. Funziona come Thinglink ma non proprio è un po' diversa. Dal mio canto non è che mi sono messa a braccia incrociati ho deciso di non fare più niente. Assolutamente sono andata a spulciare app dopo app tutto il web fino a che non ho trovato un'applicazione gratuita che fa le stesse cose di Thinglink e la buona notizia è che l'ho trovata. È una app che è stata creata nel 2020 quindi abbiate un po' pazienza perché è nuova, sta mano mano ampliando i suoi orizzonti ma attualmente già consiste, cioè permette scusate, di creare delle immagini interattive precisamente identiche a Thinglink. Non è conosciuta, non troverete dei tutorial in giro e qui sta il bello perché chiaramente sto per uscire con un tutorial di Interacti. Lo troverete segnalato quando il video sarà pronto sia sulla mia pagina Facebook sia sulla mia pagina Instagram sia sul mio canale YouTube. Non vi resta altro che cercare Prof Giordano Silvia su tutti e tre questi canali e andare a cercare i video che stanno per uscire. Vi ricordo che il modo più veloce comunque è cliccare il bottone qui sotto, quello dove c'è scritto iscriviti, in modo che tutte le volte che userete YouTube e io avrò pubblicato un video nuovo vi suonerà un campanello e riceverete una notifica da YouTube, volendo anche mail, se la attivate, che vi ricorderà che è uscito un mio nuovo video. Perciò a breve quando uscirà questo nuovo tutorial passo passo per imparare a usare questa nuova app che, sottolineo, è super gratuita, riceverete una notifica e assolutamente non vi dimenticherete più di aggiornare il vostro mondo delle app per la scuola e continuare a creare bellissime immagini interattive a scopo didattico.